Pronostico tutto per l'Inter, Salvatore, dicevamo. Sicuramente il Lazio giocherà la propria partita, ma tutti i pronostici ci portano dalla parte dell'Inter. C'è Salta Cordoba, all'indietro, 2-2, Poborski, ancora Poborski, un incredibile pasticcio difensivo dell'Inter. Lui, dopo l'infortunio che ha avuto all'Inter, credo sia stato molto in debito. E moralmente con il Presidente Moratti, perché credo che abbia voluto in tutti i modi, abbia cercato di ripagarlo con una bella vittoria.